Amici miei, notizia importantissima da comunicare. Prima di tutto voglio ringraziare la mia amica Alessandra Nicita per avermi passato il testimone. E naturalmente anche io sostengo il progetto. Io adotto un campione di Special Olympics. Pensate che quest'anno le Olimpiadi Speciali si terranno ad Abu Dhabi, potranno partecipare più di 7000 atleti da tutto il mondo e l'Italia parteciperà con 115 atleti. E quindi mi raccomando, bisogna aiutare questi ragazzi, sostenerli, aiutarli a realizzare i loro sogni. Donando sul sito www.ioadottouncampione.it Mi raccomando. E poi io passo il testimone a questo punto a tre amici. Uno, Justin Matera, grandissima sportiva. Due, il professor Giorgio Meneschincheri. Tre, la mia amica Matilde Brandi. Conto su di voi.